Il franco svizzero si apprezza in tempi di sciagure. Il centrocampista del Tottenham, Tim Sherwood, dona i suoi premi partita ai familiari delle vittime. Il calciatore Weah va a giocare in Arabia Saudita. Ragazze americane sono in prigione a Kabul per aver predicato il cristianesimo. Gli arabi guardano la CNN in un bar di periferia. Michele Cucuzza intervista l'ambasciatore del Pakistan. La CIA annienterà i terroristi. Bin Laden forse alla bomba atomica. I titoli di Libero, i rosicoli di sinistro.